Io sono convinto che ieri si sia aperta una pagina nuova nella vicenda dei flussi migratori. Sappiamo tutti che dalla Libia vengono oltre il 90% dei migranti che arrivano in Sicilia e in Italia. Quindi il fatto che tra Italia e le autorità libiche ci sia un accordo che prevede una collaborazione per gestire e ridurre questi flussi migratori apre un capitolo nuovo. Naturalmente questo capitolo a cui abbiamo lavorato per mesi, quindi siamo molto soddisfatti, possiamo dire anche all'Europa che noi la nostra parte l'abbiamo fatta e ora ci aspettiamo e mi auguro che questo accada, che da parte dell'Unione Europea ci sia un sostegno perché è una fase che noi possiamo in parte affrontare da soli, lo faremo con risorse italiane, con collaborazione delle nostre istituzioni a quelle delle autorità libiche, ma servono anche risorse europee e impegni europei. Devo dire che l'accoglienza che questa iniziativa italiana, questo risultato italiano ha avuto mi fa sperare che questo sostegno europeo ci possa essere.